Allora ragazzi oggi sono a pranzo con il mio amico e ci siamo presi questo il panino a 17 ora vi faccio vedere come l'abbiamo preso. Allora questo ragazzi l'ho preso con olive nere, patè di olive nere crudo, poi ci sta lo stracchino, stracchino come base, pomodori secchi, comunque è pieno e pieno raga, non ha fatto il mestiere perché non l'ha fatto. Comunque questo è il prezzo netto 7,50 euro. Pura scatolina speciale, questo è con il pull de pork raga, allora guardate che bello, pull de pork e sotto c'è come base il pomodoro, che c'è pure un stracchino, burrata, quest'altro è con il salmone, aceto balsamico, insalata, insalatina. Allora raga ora assaggiamo e poi diamo il parere, comunque nel salmone sta anche l'avvocato e il primo sale, assaggiamo va, assaggia prima lui, comunque è bello carico il suo del pull de pork raga, come ti sembra? Comunque vedo bello, è bello pieno, raga guardate quanto è pieno raga, è ignorante, è pienissimo, pienissimo proprio, raga calcolate il suo costa 11,90 euro e il mio 7,50 euro, bello croccante, buono, buono beh, buono, questo è un po' meno croccante perché c'è il pomodoro dentro, quindi il pane si è un po' ammorbidito, questo è un pane, mi sembra tipo pizza sembra, però da paura è un po' buono, cacca per 7,50 euro, che vuole delle più, cioè, senti come scrocchia, è buono, poi l'ingrediente è fresco, sono molto buoni, tu da quant'è che va, gli ordini, in diverso tempo, comunque raga, io ve lo consiglio, lui mi ha detto più per i panini, questi più lunghi, che sono le loro specialità, vero? Che magari i smashati, anche se quelli sono buoni, eh, comunque, molo al 17, per questo bel panino, io gli do un voto, 9,50, tu le foto gli dai? Si, pure io un bel 9,50, 9,50, ottimo, dai raga, un saluto e commentate, dai, iscrivetevi, ah, scordavo, io ho fatto l'abbonamento e farò di video solo per gli abbonati, quindi di video speciali, se avete il piacere, eh, abbonatevi e niente ragazzi, un bacione!